Mianassardo è un paesino ai piedi del Genargento, si trova al centro proprio della Sardegna e i romani la chiamavano mediana. Noi conserviamo molto del tessuto urbano, chiamiamolo antico, vecchio. Oggi tutto ciò che è rimasto lo stiamo conservando. Sì, Autonomo in Barbagio per noi Domo Santigas è una manifestazione, è una vetrina, è un'opportunità e deve essere un bagno nel passato. Quindi ogni stand rigorosamente all'interno di una Domo antiga, con le peculiarità all'interno agroalimentari meanesi. Una delle caratteristiche proprio della enogastronomia meanese è suzuku, le bavettine, quindi la pasta fresca fatta dalle massaie. Suzuku quindi viene confezionato in questo modo, si fa bollire dentro il brodo di carne di pecora. Si prepara la teglia, si mette a strati, si mette là il formaggio acidulo, poi alla fine viene infornato. Chiaramente va mangiata tiepida, non troppo calda, ma neanche fredda, tiepida. Vino meanese è un tipico vino mandrolisai. Alleviamo il Cannonau che assieme alla Monica è al Bovale, con un uvaggio misto di circa il 15%, diventa vino tipico mandrolisai. Ed è una tipicità del nostro territorio e anche quindi di Meana. La saba è il frutto del mosto che viene bollito, raffinato finemente, fino a diventare un liquido sufficientemente denso che poi viene usato per l'impasto. Subani e Saba con le noci, la farina, così via gli altri condimenti, per poi essere pintato quasi come Subani e Goia. Ancora da noi ci sono delle signore massaie che sono vestite in costume normalmente, come in molti paesi della Sardegna. Però avete visto quante ragazzine, quanti ragazzi indossano il costume meanese in questa occasione, ma in tante occasioni noi lo ripresentiamo. La tessitura e il ricamo sono ancora oggi non solo una tradizione, ma sono un orgoglio persona di chi sa usare il telaio, ma soprattutto i passaggi prima del telaio, la filatura, la parte proprio della preparazione dei fili per poi montare sul telaio. Questo magico percorso dei scrovese e dei scelivrus pieni di pane, mentre queste signore in costume lo portano al forno. Poi quello pintau è un'arte e penso che sia un'arte di poche comunità, ma di meanese sicuramente. Io queste scene, ripeto, le ho viste da sempre, continuo a vederle e sono contento che tutti possano continuare a vedere quelle che sono le nostre tradizioni. Grazie a tutti! Grazie a tutti!